Si conclude con il risultato di 2-2 il debutto casalingo della Vispesaro, che nel match contro il Ponte Nera ha ottenuto il primo punto stagionale dopo il 3-0 subito alla prima di campionato contro la Roborsiena. Tanto rammarico per i Biancorossi, che dopo aver concluso il primo tempo avanti di due reti, con i sigilli di Marcandella al 19esimo e di Tonso al 35esimo, sono stati rimontati nella ripresa. Un pareggio amaro per la Vis, che oltre ad aver perso una buona occasione per riscattarsi, è uscita dal campo Malconcia, con due giocatori Coppola e Tonso finiti in ospedale dopo due colpi subiti alla testa. Gli accertamenti ospedalieri hanno dato riscontri confortanti sulla situazione di Coppola, più problematico invece l'infortunio di Tonso, trasferito all'ospedale di Ancona per il trauma riportato alla mandibola. Tanto dispiacere per questa mancata vittoria da parte di mister Banchini, come lui stesso ha commentato a fine partita. Mi dispiace molto per i ragazzi perché oggi non dico di meritare, perché quando fai pareggio meriti di pareggiare, però si poteva portare a casa i tre punti e la verità è che è quella che hai detto te. Abbiamo cominciato a vedere un po' la Vis che mi piace, è una Vis che è propositiva, che gioca. Il primo tempo ne è stato l'esempio perché io ci metto l'occasione di Tonso che tira da dentro l'aria e ci metto anche la bella girata di testa di Gucci che è uscita di poco, però una squadra che attacca, propositiva, che cerca di dominare il gioco. Dopodiché all'inizio del secondo tempo sapevamo, perché quando una squadra è sotto 2-0 lo sai che quello che ha è una grande reazione emotiva, che soprattutto all'inizio della frazione ti proverà a mettere in difficoltà, ma eravamo molto equilibrati. Io qua pubblicamente spero che Mario non abbia nulla di grave perché mi hanno detto addirittura che ha perso i sensi, ha un buco in testa e si è aperto. Questa cosa i ragazzi l'hanno vista quando vedi il sangue e questa tensione, così dopo ti dico la verità, sulla stessa inattiva prendi un gol. Non mi piace parlare e non voglio parlare delle scelte arbitrali, però sicuramente quello ha scaturito quell'emotività negativa che ti condiziona. Subito il 2-2, un'altra situazione simile borderline, io adesso poi rivedrò le immagini, però dove sbagli sicuramente c'è sempre da fare meglio. Io sono uno che si mette sempre in discussione e cerca di trovare la soluzione giusta. Purtroppo il calcio è questo, raccogli e devi pensare che oggi hai raccolto un punto e per fare tre devi fare di più.